Buonasera ragazzi, tutto bene? Allora sono riduce da una magnata di gnocchi che penso sia storica perché con i miei colleghi di piazza del popolo siamo andati a mangiare gnocchi in un posto e praticamente c'erano quattro tipi di gnocchi, gorgonzola, gnocchi alla tasta sal, la bomba ho mai mangiato gnocchi a tasta sal, sempre il riso ma i gnocchi mai buonissimi, a pomodoro e gorgonzola e tasta sal e ragù, beh per non fare che torto nessun gnocco mangia tutti quanti però veramente buoni ma più che altro è importante che domani partiamo e la nonna abbiamo l'aereo alle 15.25 l'aereo per Rio de Janeiro poche le drag queen ci hanno detto pronto? Donna e figlia? Mamma e Erika? Dovete venire? Vi aspettiamo al San Badromo e Brasil e noi ci andiamo vi faremo sapere mentre siamo in volo business class le danno